E da anni Giorgio Scarlato con il Comitato Spontaneo Agricolo Uniti per non morire lancia l'allarme sulle condizioni degli addetti nel settore dell'agricoltura. Una critica. In questo momento arriva alle politiche attuali nel comparto sia a livello nazionale che europeo. Ma andiamo a vedere i dettagli. Si sente inascoltato come una Cassandra che racconta sempre di sciagure sconfitte e non viene mai presa sul serio. E' questa la posizione di Giorgio Scarlato che insieme ai suoi compagni di impegno e di lotta del Comitato Spontaneo Agricolo Uniti per non morire continua la battaglia per chiedere la massima attenzione per un comparto sempre più mortificato dalla politica nazionale europea e di stampazione. Un settore, quello agricolo, che necessita di un sostegno prioritario soprattutto oggi in piena difficoltà. Quali gli argomenti? Quelle che ormai oggi sono sulla bocca di tanti come i contratti di filiera così come formulata per il grano duro ad esempio è solamente una disperata filiera. La criticità atavica dei consorsi di bonifica basso molisani. La mancanza di reddito grazie a meccanismi e pratica del poco mortificanti per gli imprenditori onesti. Misure di PSR, i cosiddetti piani di sviluppo rurale poco funzionanti. Primi insediamento ad esempio per i giovani agricoltori che da anni stanno ancora aspettando. A tal proposito il Comitato Spontaneo si opponeva ai progetti di primo insediamento che sponsorizzavano l'acquisto dei trattori. Di contro i progetti imprenditoriali dovevano essere vermeati per il giovane imprenditore che avrebbe portato e quindi prodotto redditività scaturita da progetti innovativi. Ora pare che in questa misura l'acquisto dei trattori non sia più contemplata. È la questione della fauna selvatica. Una puntualizzazione per quanto suddetto. Il Molise, come storia insegna, non è solo terra ricca di acqua, di bellezze naturalistiche, archeologiche, di tradizioni, di antico dolore, di emigrazione. E' anche grazie alla politica che spesso ha offerto il suo servizio al miglior offerente di torno, terra che ha e poteva dare e che non è riuscita a valorizzare, come ad esempio lo sviluppo del territorio visto nel binomio agricolo-turistico. Politici, ma tanti, spesso e volentieri non vedevano al di là del proprio naso, non di lato, votati solo a forme degradate di inutile saggezza. E questo anche grazie alla rassegnazione, forse addirittura indifferenza del popolo molisano.